Sono troppo contento perché ci lascia questo box opening con... Cioè già così sono contento ragazzi, già così sono contento, guardate Ancora? Va bene ragazzi, posto, sto malissimo Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Ragazzi, oggi siamo qui per un video che ha al dir poco del malato Se c'è una cosa che non dovevo fare era realizzare quel video dove insomma ragionavo sul fatto di aprire o meno le casse Perché ho scatenato un polverone Questa signori è la mia situazione al momento attuale su Brawl Stars Guardate un pochettino queste belle cassette Abbiamo raggiunto le 200 proprio l'altro giorno facendo andare gli ultimi ticket che ci erano rimasti E francamente la voglia di aprire le cera, cera è anche tanta Però si può anche resistere a quella Il fatto è che non si può resistere alla tentazione di portarvi un ultimo box opening vecchio stile ragazzi Perché obiettivamente un box opening come quello che vi porto oggi non lo vedremo più Non è detto che non ci saranno più box opening, quello bisogna vedere Ma con questo stile qui ragazzi questo purtroppo è l'ultimo Sapete solo che quello che facciamo oggi ragazzi è un box opening molto particolare Perché sarà un box opening al 50% Cioè abbiamo discusso per giorni e giorni in live sul aprire tutte le casse o non aprire tutte le casse prima dell'aggiornamento E abbiamo discusso talmente tanto che abbiamo capito che la soluzione sta appunto in mezzo Aprirò una parte delle casse prima dell'aggiornamento e un paio di casse dopo l'aggiornamento E questo mi permetterà di dare una particolarità unica al mio account E voglio infatti portare il numero di casse a 112 Che è un numero che non ha bisogno di presentazione, è un numero che ci perseguita E che insomma oramai è storia delle live con DLS Anzi addirittura io porterei le big box a 12 Proprio per fare 12-112 Comunque sia per portarle a 112 bisogna aprire un qualcosa come un centinaio di casse Quindi ci facciamo già un bel box opening Io direi di non perderci in chiacchiere ragazzi L'ordine che terrò per questo box opening è Prima le brawl box e poi le big box Mentre l'ordine che potete seguire voi è magari Prima mettere un mi piace qua sotto E in secondo luogo andare nello shop e scorrere fino in fondo E magari inserire il codice ferro Ecco questo è un ottimo ordine secondo me Dai e basta con le cavolate e partiamo Perché sono carico come una molla ragazzi Vediamo subito 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 Abbiamo le cassettine qua ad aprire Vai oddio signori Ho già la nostalgia Ho già la nostalgia Ecco vedete gemme Ogni gemma ogni singola gemma ragazzi è importantissima Perché come ben sapete ragazzi Tre gemme E dal prossimo aggiornamento verranno rimosse Allora a me francamente come ho già detto anche in live Non importa troppissimo delle gemme Perché sì Allora le gemme sono tutte di guadagnate E me le tengo da parte per il pass Cinque gemme Che fortuna Però voglio dire io comunque Shoppo sempre per portare i contenuti a voi ragazzi Quindi se è necessario lo faccio e ben volentieri Mi laggare mentre faccio il box opening Maledetto Certo è che trovare un po' di oro Un po' di star power Un po' di gadget Non mi darebbe per niente fastidio Cioè avere uno dei nostri famosi box opening sfortunati Proprio alla fine ragazzi Non sarebbe per niente male Quindi speriamo veramente Di avere sfortuna Oppure magari sarebbe il colmo ragazzi Se proprio adesso Che siamo arrivati insomma All'ultimo box opening con questo stile E siamo veramente sfortunati Cioè questo sarebbe veramente il colmo E potrebbe succedere Perché obiettivamente sì Mi sta dando delle gemme E non ho neanche preso il conto Di quante gemme avevo all'inizio Quindi probabilmente vi lascerò poi il counter alla fine Però vabbè Sono parito sulle 200 e qualcosa Uh token doubler Una domanda che in tantissimi avete fatto Oppa 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 Pamela Con i gadget Che verrà tra l'altro Rimodellata ragazzi Molto molto bene E iniziamo a segnare E iniziamo a segnare Dicevo Torniamo In noi stessi 8 gemme Ormai le gemme le apprezziamo anche di più ragazzi Torniamo in noi stessi I token doubler In tantissimi Avete chiesto Che fine faranno Allora Supercell Altri token doubler Non Cita la rimozione Dei token doubler Bella per le gemme E quindi probabilmente I token doubler Rimarranno E avranno la stessa utilità Quando si fanno Che miseria Quando si fanno Dei token Con Il Brawl Pass I token doubler Serviranno ovviamente Per andare a Aumentare A raddoppiare Questi token E quindi progredire Più rapidamente Col Pass Segniamoci anche La Star Power Che tra l'altro Star Power di Bibi Questa ragazzi La usiamo subito Adesso non lo dico Tanto per Ma questa Che abbiamo trovato Era una di quelle Star Power Che volevo di più Ma vabbè ragazzi Ma vabbè Va bene Va bene Va benissimo Va benissimo Un box open Che sfortunato Signori Sono troppo contento Perché ci lascia Questo box opening Con Cioè già così Sono contento Ragazzi Già così Sono contento Guardate Ancora Va bene ragazzi Posta Sto malissimo Sto malissimo Ma quante possibilità Ci sono Ma ragazzi È tutto quanto In live Sto registrando Oddio Ragazzi Oddio Sto male Veramente Tacchicardia Allora ragazzi Io cerco Andare avanti Ma Non sarà Non sarà Molto semplice Ok Non è più uscito Niente Ok Magari Adesso si calma Ok Possiamo ricominciare Col box opening 5 gemme Gemme ne sto trovando E comunque Ragazzi Non sono poche Il fatto è che Non abbiamo aperto Neanche 50 casse Ancora Adesso si Però non abbiamo aperto Neanche 50 casse Per tutto Quella roba lì Quindi ragazzi Io veramente Non mi posso lamentare Per ora C'è anche box opening Ragazzi Spettacolare 3 gemme Ok Mamma mia E giù C'ho C'ho il piatto Mi ha fatto saltare Sulla sedia Cioè So che c'è gente Che in una cassa Trova magari Sia la star power Sia il gadget Quindi trova due cose Ho tratto anche 112 di oro Notare Ma Trovare in tre casse Una dopo l'altra Star Gadget star Non mi era mai capitata Gemme again Oh raga Comunque gemme Me ne sta dando Ma che fortuna Cioè raga A parte di scherzi Mi sta dando Un bel po' di gemme Cioè Non mi posso lamentare Anche token doubler Qualcuno me la da Vabbè Vabbè ragazzi Allora Questo è L'ultimo box opening Ok Ve lo gustate tutto Questo è l'ultimo box opening Arriva anche il gadget Di Di Shelly Non odiatemi ragazzi Io Non ci posso fare niente Io Mi limito a pigiare le casse Non so se volete fare Come faccio io Io uso L'indice Sinistro Io tengo sempre pigiato Con l'indice sinistro E non lo so Non ci sono Altre Altre cose Gemme a profusione Ma gemme raga Sbaglio O me ne sta dando Di gemme Dopo facciamo i conti Ma A me sembrano parecchie Poi vabbè Magari mi sbaglio Andiamo un pochettino Il fatto è che Anca Anita ragazzi È stata fortunatissima Probabilmente su Instagram In questi giorni Vi metterò una clip Dove tipo In 20 big box Ha trovato 4 brawler Raga 4 brawler Cioè Ha scurato tantissimo Vediamo un pochettino Se ci dovesse per caso Uscire ancora qualcosa No Fermati 109 Ferma Ferma Devo arrivare a 112 Tranquilli Ce le Ce le farmiamo Ce le farmiamo Stavo già andando Troppo oltre Stavo già andando Troppo oltre Allora ragazzi Va benissimo Ci andiamo ad aprire Ancora 4 big box E Vi spiego Anche il perché Va bene Va benissimo Ok Questo oltre tutto Come abbiamo visto Verrà anche Baffato Ragazzi Vabbè Dai ciao Scusa Mi dispiace Mi dispiace Vi chiedo scusa Quello che vi volevo dire È che Big box Ne apro Molte meno Perché poi effettivamente Queste cammi serviranno Per maxare Gale Perché ci trovo dentro Un sacco di Punti energia Qua Quindi ragazzi Andiamo ad aprire Le ultimissime casse Non penso che mi uscirà Più nulla No Mi escono che ho 5 gemme invece Ultimissima Cassa Ragazzi 163 di oro E siamo Sulle 12 Ovvio è che Adesso io andrò a giocare Perché sono in live Tutte le Cassettine extra Tutte le Cose extra Che mi escono Insomma Le vado Ad aprire subito Perché voglio mantenere Come numero 12 E 112 Perché così Poi quando avrò Il brawl pass Mi rimarrà fisso Il numero 12 E 112 Sempre E sarà una cosa epica Secondo me Per il resto basta così Insomma io direi che Con questo è tutto Quindi ragazzi Con questo video Siamo giunti al termine Vi ricordo di mettere Un bel pollicione in su Codice per nello shop E fatemi sapere qua sotto Nei commenti Che cosa avete fatto voi Cioè se avete Preso e aperto Le cassettine Come ho fatto io Oppure Se avete Conservato Tutto quanto Per L'uscita del pass Vi ricordo Vi ricordo come sempre Che questo pomeriggio Siamo in live su twitch Quindi trovate il link In descrizione Ragazzi mi raccomando Trovate anche il primo link Per l'abbonamento gratis Con amazon prime Se avete Un amico Un parente Con amazon prime Ragazzi potete Utilizzare il primo link E collegare Quell'account Al vostro twitch E far diventare Il vostro account twitch Twitch prime Così facendo Ogni mese Avete la sub Gratis Ci si becca Alla prossima Un salutone Ciao belli